Botta e risposta tra genitori e scuola. Questa mattina un gruppo di studenti del liceo Teresa Ciceri di Como si è presentato all'istituto per frequentare i corsi di recupero, per scoprire però che non c'era alcuna lezione. I ragazzi sono stati costretti così a tornare a casa. Diversi genitori infuriati hanno segnalato la vicenda, ipotizzando anche una mancanza dei professori. L'inizio dei corsi di recupero previsto per la giornata di ieri è slittato a settimana prossima come comunicato sul sito web della scuola da un paio di giorni, commenta il dirigente scolastico Vincenzo Iaia. La nuova data, fissata per lunedì 7, è stata decisa in seguito agli ultimi aggiornamenti legati alle norme anti-covid per le scuole. Abbiamo deciso di posticipare l'avvio per rispettare i protocolli di sicurezza e organizzare al meglio le attività. Evidentemente i pochi ragazzi che si sono presentati stamattina non ne erano al corrente, conclude Iaia. L'istituto in via Carducci raggruppa il liceo delle scienze umane, il liceo linguistico e il liceo musicale. 14 i corsi di recupero previsti che saranno frequentati da un centinaio di allievi prima della ripresa ufficiale del 14 settembre.